Ci siamo introdotti nel tema dei vizi e delle virtù, che sorrichiama la rotta spirituale del cristiano. Infatti la vita spirituale del cristiano non è pacifica, non è una cosa allineare e priva di sfide. Al contrario, la vita cristiana esiste un continuo combattimento, il combattimento cristiano, per conservare la fede e per arricchire i doni della fede in noi. Non a caso la prima unzione che ogni cristiano riceve nel sacramento del Vattesimo e l'unzione catecomenale, è senza alcun profumo e annuncia simbolicamente che la vita è una lotta. Infatti, in antichità, i lottatori prima della guerra venivano...